Nel cuore della notte che ha sconvolto il grande fratello, scintille di passione si sono trasformate in un'autentica esplosione di emozioni. Ma prima di immergerci nel caos, ricordate di mettere un mi piace a questo video e iscrivervi al nostro canale per non perdere gli aggiornamenti più succulenti sul mondo dei reality. È notte nella casa più spiata d'Italia, e le tensioni tra i coinquilini sono giunte al loro apice. La scintilla che ha acceso la miccia è stato un gioco innocente che ha presto preso una piega drammatica. Tutti contro Beatrice. Paolo, Angelica, Lorenzo, Arnold, Letizia, Ciro e Vittorio l'hanno presa di mira, accusandola di cercare l'attenzione vestendosi di nero. Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. La risposta di Beatrice è stata appassionata e sincera. Ha ribadito la sua autenticità, rifiutandosi di fingere. Non ne posso più, ha dichiarato con forza. Ma questa è solo l'inizio del nostro viaggio emozionale. La svolta avviene quando Beatrice si ritira nel giardino, e lì, Giuseppe Garibaldi, un concorrente che ha dimostrato simpatia per lei, si avvicina. La sua gentilezza e il suo sostegno danno nuova linfa a Beatrice, e tra di loro inizia a scorrere un'energia speciale. «Forse ti attaccano perché sei la più forte e hanno paura», sussurra Giuseppe. Le sue parole toccano il cuore di Beatrice. Ma qual è la vostra teoria su perché gli altri coinquilini sembrano così ostili verso Beatrice? Condividetela con noi nei commenti. Le fusioni tra Beatrice e Giuseppe diventano il fulcro della notte, tra abbracci, confidenze e gesti d'affetto. I social esplodono, definendo questa coppia la ship dell'anno. Ma sarà davvero nata la prima coppia tanto desiderata da tutti? Gli ascolti potrebbero decollare, e gli autori ringraziare. Cosa ne pensate? La relazione tra Beatrice e Giuseppe è destinata a durare? Fateci sapere le vostre previsioni nei commenti. Che impressione vi ha fatto l'atteggiamento di Giuseppe verso Beatrice? Credete che il loro legame sia genuino?